Non mi staccava gli occhi di dosso, era molto elegante. La mattina mi fece una sorpresa, che te lo giuro, io mi credevo di sognare. Guarda un po' qua. Non avevo mai visto tutti quei soldi in vita mia. Ci stanno 120-130 milioni qua dentro. Voglio che li spendi tutti.